Vorrei concludere con un apprezzamento per l'enfasi che il Presidente e l'Istituto stanno ponendo al tema della ricerca. Non una ricerca in astratto, ma una ricerca finalizzata a migliorare le condizioni di vita, in questo caso in particolare dei lavoratori e il benessere della società nel suo insieme. La ricerca come strumento di innovazione e di sostegno dei processi, autonoma ma finalizzata, sembra uno snodo fondamentale per contribuire a dare coerenza e forza ai piani di formazione sulla sicurezza, che sono elemento fondamentale per quel cambiamento culturale che in questo campo tutti auspichiamo. Credo che si sia fatto molto nel nostro Paese, lo dicevo prima, ma come sempre ricorda anche il Presidente Napolitano, che ha una grandissima sensibilità su questi temi, molto resta da fare. L'impegno del mio Ministero in questo ambito è massimo, ma sempre di più in una logica di collaborazione vera e meno in una logica di mera repressione. Grazie.